Arriva finalmente la prima vittoria per l'Aquila Rugby Club, che dopo la migliore partita dell'anno batte l'Imalazio Rugby 27-7, conquistando il punto bonus offensivo in virtù delle quattro medie segnate. Cinque punti importantissimi per i Nero Verdi, che con i Lions Piacenza sconfitti a Mogliano, si giocheranno la salvezza sabato prossimo a St. Donà, nell'ultima partita di regular season. Il 15 di Mercier Cuttitta entra in campo determinato a portare a casa la vittoria. Dopo sette minuti il pilone romeno Petru Tamba, tre migliori in campo, va in meta dopo una bella azione in attacco. Acciuffa il pareggio la Lazio dopo soli sei minuti, con l'avante Aquilano Davide Di Roberto, uno degli ex in campo. L'apertura Luca Calandro trasforma e si va su 7-7, ma saranno gli unici punti dei Bianco Celesti. L'Aquila soffre le penetrazioni avversarie, ma regge bene e al sedicesimo la seconda meta di Tamba, dopo un'azione giocata sull'angolo chiuso. Due metri in avvio di partita, dando la spinta ai Nero Verdi per la prima vittoria e per le fondamentali quattro metri da realizzare, per evitare la matematica retrocessione. Si va negli spogliatoi sul 12-7, con la Lazio che detiene un maggior possesso, ma non riesce a concretizzare, con il pubblico che non smette mai di incitare i ragazzi in campo. Alla ripresa delle ostilità, l'Aquila ci mette il cuore e si porta da subito in avanti. Dopo numerose fasi di gioco, è Capitano Giovanni Marchetto, giudicato a fine gara Man of the Match, a schiacciare per la terza meta dell'Aquila, quella che dà la concreta speranza della vittoria. Complice anche la doppia superiorità numerica, l'Aquila sbaglia pochissimo e si porta ancora in meta al 66esimo. Spinte continue dell'ottimo pack nero-verde portano l'arbitro Schipani ad assegnare una meta tecnica. Il fattore esplode di gioia, così come la giovane squadra in campo. Sul finale l'Aquila si organizza bene e si porta ancora in avanti, marcando l'unico piazzato della gara con Alberto Bonifazi. Termina 27-7 per una vittoria che è da morale, in un campionato comunque molto difficile. Appuntamento a sabato 7 maggio a Sandonà, dove si vedrà se l'Aquila riuscirà a compiere il miracolo. L'Aquila infatti dovrà riuscire nell'impresa di vincere in terra veneta, sperando che i Lions non guadagnino punti sul campo del Rovigo. Nel caso di arrivo a pari merito a 14 punti sarà spareggio.